Inter Mare 43 Fly, comfort totale su questa imbarcazione. Ora andremo a bordo insieme al nostro mitico collega Evandro con cui ci siamo già parlati e visti prima, lo butto anche lui in mezzo alla mischia come abbiamo fatto prima, vi ricordo ovviamente e rinnovo il mio benvenuti in questa nuova ottava edizione del videosalone, saliremo a bordo di questa magnifica imbarcazione con Evandro. Ciao Evo! Ciao a tutti! Come andiamo? Siamo tornati sui finger, ti sento provato, la voce inizia a patire. Guarda, mi hanno già chiesto se sto per caso imitando Eros Ramazzotti, ho detto tutti no, sono solo raffreddato. Va bene. Vai pure! Bando alle ciance, andiamo a vedere la barca che ci interessa. Eccola qua. Eccola! Allora, stiamo parlando di un Inter Mare 43. Io lascio nel frattempo la scena totalmente a questo Inter Mare 43, Fly. Fly. Allora, uno dei punti di forza di questa imbarcazione è sicuramente la moto con le linee d'asse. In questa categoria qua non se ne trovano più tantissime equipaggiate con le linee d'asse che, come ben sappiamo, è un plus per il discorso manutenzioni. Dà una sicurezza in più e in più offre una manovrabilità realmente facile. Cioè, si apprende abbastanza velocemente ed è facile da gestire. La barca, come vedete, è una barca in ottime condizioni. Non ha il tech a prua, però, insomma, io lo considero un plus perché, uno, scalda meno e, due, la barca è molto più comoda da lavare, da utilizzare, da tenere sempre bella, pulita e pronta per la gita. Ti dico, Evo, che abbiamo già un sacco di domande e non siamo ancora saliti a bordo. Urca, sono scatenati. Allora, inizio a descrivere. Prima cosa, questa barca ha una spiaggia di dimensioni realmente, realmente notevoli. Direi che, rispetto a barche anche molto più grandi, ha una spiaggia molto comoda, molto pratica, con il classico opac mare che ci permette, in ogni caso, di sollevare un gommone o qualsivoglia mezzo di trasporto. Oppure essere anche solo sfruttata, a vista le dimensioni, per prendere il sole con un asciugamano e quindi è molto, molto confortevole. Passerella in acciaio che ci permette di scendere in questo altrettanto ampia pozzetto. Il pozzetto è veramente di generose dimensioni. Come vedete, questo è un tavolo, giusto per darvi l'idea, ci stanno sei persone, molto comode. Quindi pozzetto notevole, la barca è dotata di oscuranti per il sole, cuscineria di poppa, le cuscinerie sono tutte in ottime condizioni, sono state rifatte da poco, sia sul fly che nella parte esterna. Qui abbiamo un piccolo lavandino per ogni evenienza. Abbiamo tutta una serie di segnapassi nella parte di salita e di camminamento anteriore. Altro plus importante di questa barca è il tech che c'è, è stato appena rifatto, quindi abbiamo un tech assolutamente nuovo, biondo e pronto per essere preparato per la stagione. Camminamento anteriore molto molto comodo, è spazioso, ci si tiene bene, ti enti bene sopra, ti enti bene sotto e via. Andiamo a passo avanti, le cuscinerie di prua non sono state montate ma sono comunque presenti. Abbiamo un bello spazio a prua, vi faccio vedere un controcampo anche dall'altro lato. Eccoci qua, confortevole, una trefoil come ancora con tanta catena, eccoci qua. Farei un controcampo alla prua perché è veramente molto generosa. È spaziosa, è comoda per prendere il sole, per stare anche in navigazione magari a bassa velocità, può essere veramente una situazione piacevole. Certo, sole che oggi ce n'è da vendere, mi sembra di notare. Meno male, siamo partiti male, comunque abbiamo recuperato, la fortuna ci ha assistito. Egregiamente direi abbiamo recuperato. Se si riesce a vedere lo stato del tech. Il gel coat è tutto in ottime condizioni, pronto per essere lavato e preparato. Certo, ricordo inoltre che l'immatricolazione di questa imbarcazione è del 2007, costruzione scafo 2007. Pertanto sicuramente l'imbarcazione ha un po' di annetti ma devo dire che è rimasta in ottime forma. La barca è in ottima forma e per quanto riguarda le ore motore stiamo parlando di 300 ore motore scarse, quindi una situazione in cui i motori sono stati veramente poco usati. Eccoci qua, molto molto luminosa, non so se l'immagine rende l'idea. Ripeto, per chi non l'avesse capito, 291 ore moto, quindi motori ancora freschi, non dico che non abbiano fatto il rodaggio ma poco ci manca. Sono praticamente all'inizio della vita, questi motori hanno ancora un sacco di strada nautica da fare. Sì, assolutamente. Anche le pelli degli interni, vedete, sono in ottime condizioni, i legni. Devo dire che se paragono altre marchi del 2007 con questo, come potete vedere, il colpo d'occhio è molto più moderno. Sia i colori interni, sia la tipologia dei legni usati rende l'ambiente molto piacevole e molto più moderno, magari rispetto a marchi anche più blasonati. Qui abbiamo una zona comando, dove pilota automatico, l'elica di prua, il bidata per vedere i vari dati, il nostro C80, che sarà poi ripetuto anche sul fly dove andremo dopo. Una domotica che ci rende facilissimo l'utilizzo di ogni congegno della barca, manette elettroniche e direi che il quadro di comando è visto. Allora, invece scendendo qualche gradino, passiamo nella parte cucina, dove abbiamo microonde, piastra, lavandini a scomparsa con copertura in Korean, un frigorifero comodo e un po' di spazio per preparare i nostri piatti, le nostre pietanze. Anche in cucina, che è la zona che di solito risente maggiormente dell'umidità del lavoro, come vedete i legni sono in ottima forma. Iniziamo dalla cameretta di poppa, con due letti separati, che possono essere uniti volendo con una plancia e un materasso, che non sono presenti, ma di facile realizzazione. Lo specchio rende l'ambiente visivamente molto più grande, quindi è un'ottima intuizione. Il primo bagno che andiamo a vedere, anche questo con plancia in legno, carabottino in legno, ovviamente wc elettrici. Poi un comodo letto a prua, con salita laterale con i gradini. Direi di fare un controcampo al letto, che si veda bene anche lo spazio. Sì, assolutamente. C'è una bella testiera, è un bel letto e poi ho aperto uno dei due oscuranti dell'oblò per capire cosa si vede dal letto. Ovviamente anche dall'altra parte abbiamo un televisore, per chi ama vedersi un po' di tv prima di addormentarsi. Oblò sopra il letto. E poi qui abbiamo il bagno dell'armatoriale, un pochettino più grande, con una zona doccia che si può chiudere in plexi. Altro wc elettrico con copertura. Bagno di generose dimensioni, assolutamente di generose dimensioni. Torniamo verso poppa, così vediamo anche il controcampo della cucina. Sì, della cucina, quello sì, è quello che mi hanno richiesto per capire anche lo spazio. Devo dire che rimane leggermente ridotto, ma con tutto a portata di mano e di facile utilizzo, chiaramente perché si riesce un po' ad avere facile accesso sia dal forno a microonde ai fornelli a induzione, insomma. E quanto riguarda appunto i ripiani di stivaggio è per poter mettere quello che ci serve nelle giornate di crociera quotidiana. Ricordiamo che abbiamo comunque un'aria condizionata caldo e freddo, un generatore da 4 kilowatt, i motori, non mi ricordo se l'abbiamo detto, sono due da 370 Yammer, antenna satellitare, televisione sia in camera che in dinette, elettronica completa Raymarine, manette elettroniche. Mi chiedono Evo appunto se la dinette Evo fosse trasformabile oppure no. No, no, è una dinette fissa questa. Ok. Si può pensare di inventare una soluzione sul tavolo, ma è una dinette fissa. Ok. Poi altra cosa molto comoda, salita, scala di salita al fly, vedete totalmente in vetro resina con un bell'appoggio, tenuta in acciaio, molto solida, quindi anche chi si sente meno sicuro può tranquillamente salire da questa scala. Questa è una chicca dell'imbarcazione. Poi vediamo la strumentazione della parte inferiore riportata esattamente sul fly con la regolazione del flap, l'elica di prua, comando del pilota automatico, schermo C70 e manette elettroniche. Una posizione di guida molto comoda, rilassata. Ci chiedono Evo le prestazioni che si hanno con questi motori, ricordo appunto due motori da 370 cavalli, appunto Yanmar. E' una barca che viene spinta a circa 29 nodi di velocità massima, un 21-20 nodi di crociera per una crociera comoda, confortevole, con consumi ridotti, perché i motori non sono assetati e quindi con un 70-80 litri l'ora si viaggia intorno ai 20 nodi. Le cuscinerie, vedete, sono, come vi dicevo, in ottime condizioni, sono state rifatte da poco. Abbiamo anche, ovviamente, un cuscino prendisole qua a Poppa, che adesso è riposto in garage per non fargli prendere umidità. Satellitare. Beh, ovviamente un bel bimini per le giornate assolate estive. Anche questo in ottima forma. Cuscinone. Direi un ottimo fly. Sì, assolutamente. Ricordo appunto la lunghezza dell'imbarcazione, stiamo parlando di un 12 metri per una larghezza di 398. Direi che spazi anche qua gestiti. È una barca molto più grande perché la plancetta non viene considerata nelle misure di registro. Esatto. Quindi questa plancettona enorme non fa parte delle misure che invece vi faranno pagare il posto barca. e quindi diciamo che è una cosa comoda e lo spazio comunque da vivere c'è. Torno giù. Sì. Anche qua accesso sul fly molto di facile utilizzo. Eccoci, io mi metterei qua l'ombra in pozzetto che si sta molto bene. C'è un po' da rietta ed è comodo. Sì, da goderti appunto la rietta fresca di Loano. Allora, io nel frattempo, mentre ti sistemi, andrei a condividere anch'io quello che è la nuova iniziativa Aba Yachting dove abbiamo ideato solo per questa edizione del video salone per poter ottenere un buono da 500 euro. che cosa bisogna fare? Nulla di così difficile. Bisogna iscriversi al form dedicato che troverete sicuramente al sito internet di Aba Yachting compilare con i vostri dati, segnarsi il codice che vedete appunto in questa schermata tenetelo molto stretto perché nella prossima settimana sarete contattati o da me o da un collaboratore di Aba Yachting per poter appunto segnare questo codice. Che cosa avrete con questo procedimento? Un buono di 500 euro a utilizzare come meglio credete nell'anno, in un anno con Aba Yachting che sia per acquisto, che sia per vendita, che sia per qualsiasi cosa. Ecco, si può utilizzare questo buono. Non vi serve subito, non importa, segnate il codice perché lo possiamo tranquillamente usare durante l'anno. Quindi io torno da te Evo, ti rimuovo dall'evidenza. Che cosa possiamo aggiungere di questa imbarcazione di importante o comunque che possa interessare ai nostri utenti, ai nostri spettatori? Allora, è una barca che è difficile trovare in questo stato meccanico e in questo stato anche estetico. Una barca di, pur essendo un fly, di due cabine, due bagni, sopra i 12 metri, ha dei costi di gestione veramente ridotti perché la motorizzazione è veramente pratica e di pochi problemi. Ne abbiamo usati diversi, ho usato un Intermare 37 anche che avete visto, penso, poco fa. Sono barche molto pratiche da usare con bassi costi di manutenzione. Questa barca in ordine è pronta per la stagione, bisognerà fare un tagliando, una lavata al tech per farlo rendere proprio biondo e piacevole alla vista e si è pronti. Su questa barca, fra altre cose, è stata portata a zero, è stato fatto un trattamento, ha ancora assolutamente una garanzia. Quindi questa barca è stata rivista e rigenerata, lo scafo è a nuovo, diciamo così. Quindi pronti veramente per l'utilizzo. Con questa tua affermazione abbiamo risposto ad una delle domande che ci hanno fatto, appunto la condizione della carena. Vorrei solo ricordare che abbiamo visto i sansediti a bordo di un Intermare 43, un'imbarcazione con un fly super generoso, lunghezza totale 12,03 metri per una larghezza di 3,98 metri. Monta due motori da 370 cavalli Yanmar, 291 ore di moto. Cos'altro possiamo aggiungere? Evo è un'imbarcazione sicuramente da vedere e toccare con mano. Evo sarà colui che ve la mostrerà e vi potrà rispondere a tutte le ulteriori domande possiate avere a riguardo. Evo, ti vedo bello pronto ad aspettare la calca di gente che viene a vedere l'Intermare 43. Sono pronto a farvi fare una visita a bordo e spero di accompagnarvi anche nella vostra prima uscita. Sono sicuro che uno dal mazzo ci sarà per questa barca favolosa. Io per il momento Evo ti ringrazio, ci sentiamo sicuramente più avanti o eventualmente domani. Va bene, grazie a tutti. Goditi l'arietta fresca di Loano, un abbraccio. Ciao Evo, ciao. Eccoci qua, quindi come appena riassunto, abbiamo visto l'Intermare 43. Tutte le informazioni di questa barca potete trovarla sul nostro sito www.abaiottin.com. Per ultimo, ma non meno importante, ecco voglio segnalarvi che l'accesso al form che potrete ottenere direttamente dal sito Abaiottin non solo vi dà la possibilità di ottenere un bono da 500 euro, ma vi dà il grandissimo vantaggio di poter accedere alle video dirette, live che abbiamo fatto oggi, stamattina, nel pomeriggio e nella giornata di domani per poter avere tutte le risposte in anteprima della barca che vorreste ottenere. Ricordo appunto che potete anche scriverci alla nostra mail infochiocciolaabaiottin.com Il videosalone non finisce qua perché a breve andremo a bordo nel canale amatore di un My6, nuovo ovviamente, quindi rimanete collegati perché ne vedremo ancora delle belle. Io per il momento vi saluto, sono Simone, un abbraccio a tutti, ciao! Grazie!